Martedì 12 marzo, ultimo giorno per le imprese per prenotarsi per la missione d'affari promosse da InterTred Salerno per favorire la nascita di collaborazioni stabili con imprese ed operatori nei paesi esteri. A Minsk in Bielorussia partenza giovedì 4 e rientro domenica 7 aprile. E per col di 20 marzo termine per le imprese per aderire alla missione imprenditoriale in India, Bangalore e Mumbai. Dal 23 al 28 giugno su Agroalimentare, Food Processing e Packaging. Tutti i dettagli di moduli per la manifestazione di interesse su intertred.camcom.it